Questa diretta ha il sol ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali e simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli attori di questo live non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire e il capitale investito potrebbe diventare inferiore a quello depositato. I rendimenti passati, le simulazioni e le previsioni non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento degli strumenti finanziari offerti dall'intermediario e di consultare i documenti relativi al rischio di investimento presenti nel sito web di riferimento. Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading con i CFD di questo fornitore. Lo spettatore pertanto esonera questo contenuto e chi l'ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Il suo rapido di reazione è semplicemente incredibile. Il suo rapido di nostri spettatori, con tutto controllo del gioco. Il suo rapido di non vedo e può fare il passato perfetto. Il suo rapido di riferimento di riferimento. Il suo rapido di riferimento di riferimento. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovati. 3 aprile 2024. È iniziato ufficialmente con questa settimana, il secondo trimestre dell'anno in corso e ci sono già stati in queste ultime ore un bel po' di movimenti. Lunedì chiusi i mercati, le piazze europee, ma anche lì un po' di movimenti si sono subito palesati per quanto riguarda Wall Street e anche quelle che sono state le piazze asiatiche. Ieri è una giornata ancora una volta importante e allora la commenteremo insieme ai nostri ospiti e che andrò a presentare tra pochissimo. Prima però permettetemi come sempre di ringraziare tutti coloro che sono già sintonizzati qua con noi questo mercoledì mattina, coloro che vedranno anche la registrazione e come al solito ve lo ricordo sempre quello che possono essere i nostri riferimenti ufficiali e cioè il nostro canale YouTube lo trovate qua sotto il tasto di iscrizione in chat. Ho già provveduto a rimandarvi quello che è il link che appunto vi porta in maniera del tutto gratuita all'interno del nostro canale Telegram ufficiale. Buongiorno, ben ritrovato a Massimo Vita, gruppo delle Tartarughe. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, sperando che abbiate passato un buon tempo pasquale. Siamo ancora in un tempo pasquale ma questa settimana è partita veramente fortissima, no? Esatto, non c'è soltanto il mercato equity a scaldare gli animi, torna a trovarci anche in questo mercoledì mattina. Buongiorno, ben ritrovato a Giancarlo Dallaio. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti coloro che sono sintonizzati quest'oggi in diretta. Assolutamente sì, salutiamo subito i commenti di Andrea, Mauro e Sonia. Vado in condivisione, arriviamo subito sul DAX perché poi Massimo come sempre ci fa vedere quella che è stata anche l'operatività di questi primi minuti della giornata, quindi a partire dalla mezzanotte in poi, in questo momento vediamo un DAX che ha tentato dopo le 8 del mattino un piccolo rimbalzo, però vi faccio vedere quello che è stato, o meglio, quello che è il grafico giornaliero. Ve lo posso anche ingrandire a tutto schermo, così abbiamo una panoramica un po' più importante. Vedete la seduta di ieri con un ribasso marcato, non troppo marcato rispetto a come eravamo abituati ormai in queste precedenti settimane, ma come diceva appunto Massimo Vita, qualcosa che potrebbe iniziare a bollire in pentola, velocemente 1.07.65 per quanto riguarda il nostro euro-dollaro, grafico a 4 ore che riporta quello che è stato un piccolo rimbalzo nella giornata di ieri e vedremo soprattutto in quella che è la settimana importante per quanto concerne il mercato del lavoro statunitense, che cosa accadrà in particolare nelle ultime ore di contrattazione, a partire poi da quella che sarà alle 14.30 di venerdì seguiremo il dato in diretta e così via. Quasi a 2.300 dollari qua sullo spot anche per quanto concerne il gold, in questo momento 2.277 dollari l'oncia, un po' di correzione si è vista anche in queste ultime giornate sul bitcoin e poi attenzione parleremo assolutamente di petrolio perché qua sullo spot è tornato sopra gli 85 dollari, ma insomma c'è tanta carne al fuoco. Primo recap per quanto riguarda Massimo perché porta bene il mercoledì mattina i primi movimenti della notte li cattura immediatamente. Giancarlo non dorme mai Massimo, lui sicuramente sarà long, non di caffè perché so che non lo beve, ma di qualcos'altro. Massimo, primo recap lo faccio fare a te con questo recap e poi anche con l'altra slide che mi è mandato. Sì, bevo il tè, bevo il temate che usa anche Papa Francesco, ma penso che questo possa anche non interessare agli amici e la cosa che avevo detto a Napoli, che ho ribadito in un video che ho condiviso ieri sera, è guardiamo la volatilità, il rustox. Quando come ieri la volatilità fa più 6%, il mercato azionario tende a scendere, c'è un po' di panico che cresce, per cui era un'ottima giornata per andare a ribasso ieri e quindi quelle operazioni che vedete alle chiuse, alle due di notte, chiaramente non sono state fatte con un take profit che è stato preso. Il concetto è che anche stamattina alle 8, quella forse è l'operazione più interessante, c'era la possibilità di chiudere uno short in area 18,5,10 dove ho chiuso, adesso il mercato è un po' sopra, 18,5,70. Quindi dobbiamo vedere ancora oggi come si muove la volatilità per cercare di capire se questo rimbalzino avrà vita lunga o meno. Abbiamo degli indicatori di trend brevi che possiamo utilizzare, probabilmente ognuno ha proprio rischio e curiosamente potremmo vedere che anche il 3 minuti che è stato veramente molto preciso ieri negli Stati Uniti, sto facendo addirittura vedere il grafico della notte che naturalmente non tradiamo normalmente perché non è un orario indicativo, però anche qua sembra accucciarsi sotto il 3 minuti il super trend sia all'Azac che SP500. Quindi a nostro rischio potremmo monitorare se passasse in verde come sta passando in questi momenti, dovesse rimanere quindi sopra 18,2,60 e sopra 5,2,48 SP500 potremmo ognuno a suo rischio eventualmente provare il rimbalzino. Però appunto vorrei vedere il VIX, il VXN, che è il Nasdaq, che è la volatilità del Nasdaq e anche il Vistox in calo per avere coerenza sull'eventuale rimbalzino. Se no ci potrebbe essere il rimbalzo del cosiddetto gatto morto. Assolutamente. Allora andiamo in chat perché prima un piccolo escurso da parte di Guido che tra l'altro lo conosco molto bene, lo saluto e lo ringrazio, che dice ho visto Giancarlo su TikTok da un famoso sarto di Napoli che si faceva fare il suo vestito su misura, quindi vedi che alla fine la nostra community poi spazia su tutti quelli che sono i social. Arriviamo perché Marco chiedeva VTI e Gold, si accoda anche Donatello per quanto riguarda il Silver, poi c'è anche uno spunto che ci dà Massimo con una sua slide sul Natural Gas. Giancarlo, da dove partiamo per quanto riguarda la richiesta di Marco? VTI o Gold? e da lì magari sul Gold ci allacciamo anche il Silver. Facciamo prima magari VTI visto che oggi parla meglio, si riuniscano anche i capoccioni dell'OPEC. Prima potremmo parlare dei colori che andranno di moda l'anno prossimo. Va bene. No, devi dire che questo video poi è diventato assolutamente virale perché Revo è un mio amico da tantissimi anni, io vado da lui. C'era il suo operatore, dice dai registriamo al volo e quindi io come al solito insomma vi presto molto volentieri. Allora dicevi petrolio. Facciamo petrolio visto che oggi tra l'altro c'è anche un meeting OPEC Plus, i loro definiti così, si riuniscono i capoccioni, adesso poi bisogna vedere se si prendono a testate perché bisogna stare attenti a cosa succede lì dentro. Andiamo sull'olio. Allora sì, il petrolio è molto forte in questo momento, siamo sopra gli 85 dollari per barile, sinceramente io mi aspettavo che potessimo rimanere tra gli 80 e i 73 e i 72, invece il mercato ha allungato, devo dire anche per questioni geopolitiche, perché c'è un riscaldamento, un surriscaldamento della situazione, potrebbe entrare in ballo l'Iran, insomma ci sono delle situazioni geopolitiche che non sono favorevoli ai prezzi bassi del petrolio, c'è da dire per quanto riguarda l'OPEC che i tagli unilaterali al momento sono confermati fino a giugno, vedremo se oggi ci saranno delle variazioni ma immagino di no, però sono dei tagli unilaterali particolari perché a fronte dei due milioni di barili di cui si era parlato inizialmente la realtà ci dice che solo l'Arabia Saudita in realtà sta tagliando, i tre grandi player sono Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi, ma alla fine il taglio complessivo è mezzo milione di barili, questo può essere interpretato in modo positivo dal mercato, perché? Perché se si tratta solo di una piccola quantità, mezzo milione di barili, anche nel momento in cui saranno eliminati questi tagli e potrebbe succedere con l'estate, non impatteranno in maniera importante sul mercato e quindi il mercato sta ulteriormente prendendo positivamente questa situazione, quindi devo dire che questa volta se i sauditi volevano far aumentare i prezzi del petrolio ci stanno riuscendo con il minimo sforzo. La Russia ha annunciato altri tagli, vedremo se anche questi saranno confermati oggi, però poi dobbiamo dire che addirittura a febbraio hanno fatto oltre cinque milioni di barili di export, sono rientrati sotto i cinque milioni, siamo intorno ai quattro milioni e sette, quindi più o meno la media degli ultimi due anni nonostante il conflitto. E poi c'è la questione della domanda, l'economia è forte perché i dati insomma lo confermano e quindi chiaramente i rialzisti si stanno ringalluzzendo, come si suol dire o come si diceva una volta. Attenzione perché è un anno elettorale, io dubito che l'amministrazione Biden non farà nulla per fermare un po' questa crescita, soprattutto se dovessero salire i derivati e il petrolio e già il crack spread, e cioè il differenziale fra gasolio e benzina da un lato e petrolio greggio dall'altro, ci sta dicendo che probabilmente si tenterà di arretrare. Quale potrebbe essere l'arma, visto che gli americani già sono al massimo della loro capacità produttiva, poco sotto i quattordici milioni, è molto probabile che pensino all'unica cosa possibile, cioè il rilascio di scorte strategiche, visto che ai prezzi dei mesi scorsi, quando ci sono stati i test dei settanta dollari, hanno comprato per cercare di riportarle a un livello superiore rispetto a quello basso del duemila e ventidue, quando prelevavano scorte strategiche a gogo. Ci sono poi anche i cinesi che naturalmente tentano una ripresa economica. Questo aspetto qua era una domanda che ti avrei fatto, perché così almeno per quanto riguarda le riserve strategiche sono subito a riprenderlo, perché lo monitoravamo sempre insieme nei precedenti appuntamenti, l'abbiamo detto tantissime volte, questa che vedete appunto è la linea, il grafico che traccia quelle che sono le riserve strategiche degli Stati Uniti, qua negli ultimi due anni l'inflazione veniva combattuta per quanto riguarda il prezzo della pompa di benzina, emettendo, quindi rilasciando scorte strategiche sul mercato, il che ha portato ad un calo delle riserve che praticamente questi livelli qua dobbiamo tornare ai primi anni 80 Giancarlo. Poi effettivamente come dicevi tu, come annunciato, quando c'è stato un po' l'arretramento da parte dei prezzi del petrolio, lì compratore di prima istanza degli Stati Uniti e quindi si è fermata questa discesa. Sotto questo aspetto dici che potrebbe esserci anche un ulteriore step ribassista, poi torniamo sull'ultimo aspetto. Beh, è l'unico modo, l'unica cosa che hanno a disposizione perché la produzione non possono aumentarla ancora. Dall'altro lato ci sono i sauditi che non sono più gli alleati di una volta, insomma il mondo sta diventando multipolare, la globalizzazione sembra terminata e quindi che cosa possono fare? L'unico modo credo che sia questo, non so se l'attueranno, oppure raffreddare ulteriormente l'economia. Infatti i dubbi che ci sono nelle ultime ore da parte degli operatori di mercato e anche da parte di chi guarda i Fed funds sono di una Fed che potrebbe attendere prima di abbassare i tassi di interesse. In un'intervista rilasciata da Powell venerdì pomeriggio a un giornalista americano, Powell ha detto dobbiamo monitorare l'andamento dell'inflazione, i tassi rimarranno stabili finché non si avrà un chiaro segnale di discesa verso il 2%. Ecco spiegato il motivo del ribasso di queste ultime ore immagino, all'inizio il mercato non ci ha fatto molto caso nella prima parte della giornata di lunedì, però adesso sì. E tra l'altro c'è anche un contrasto, il classico qualcuno mente fra i mercati, fra le correlazioni di cui magari parleremo in seguito. Assolutamente, grazie Giancarlo. Torno per un breve recap per quanto riguarda il mercato non solo equity ma anche per quanto riguarda l'FX perché ormai vediamo una stabilizzazione sopra area 151,50 del cambio che avevamo già messo sotto la nostra lente di ingrandimento cioè dollaro yen, come dicevano anche prima gli ospiti sia Massimo che Giancarlo in questo momento vediamo comunque sia ancora un tech un po' sotto pressione praticamente sulla pari anche del derivato, il CFD sul derivato scusate qua in piattaforma EasyMarkets per quanto riguarda il DAO, facevo vedere mentre parlava anche Giancarlo quello che è il grafico dell'S&P 500 che appunto qua sul CFD aveva visto quasi un tocco a 5,3 e poi a quella che è stata una mini correzione. Andiamo nuovamente sul DAX stabile lì e poi volevo vedere anche cosa succedeva al nostro indice quindi in questo caso il Fuzzimib in questo momento 34,410 più o meno per quanto riguarda le quotazioni. Massimo torno da te per quanto riguarda il tutto perché quello di cui parlava anche Giancarlo, insomma questi mercati che fanno vedere un minimo accenno di correzione, ecco volevo ripartire da qua giusto perché ho citato sempre il DAX poi parleremo di obbligazionario, torneremo a parlare poi di gold, silver e non solo. Facciamo una piccola panoramica perché poi tu mi hai mandato alcune slide anche relative a un ETF ma questo è un caso peggiore mettiamolo così sul DAX, poi sentiremo anche Christian che tra poco sarà con noi, questi ritracciamenti dove potrebbero portare le quotazioni Massimo? Sì, per chi non ha diciamo degli orizzonti da trader o da scalper questo è un grafico del DAX indice settimanale, quindi un super trend settato a 3,5 o 3,6 che ci ha dato 11 segnali discreti negli ultimi 11 anni, quindi molto tranquillo per chi ha dei fondi o degli ETF. Benissimo, rispetto al minimo che ha fatto a fine ottobre, tutta questa enorme salita, quello che stiamo vedendo, questo mini terremoto che abbiamo visto ieri è solo una candelina che è appena accennata che appunto, come ci direbbe anche Gianvito, dobbiamo aspettare eventualmente la chiusura. Ma le ipotesi sono, nel corso in cui dovesse fare un ritracciamento fisiologico del 23,6 di Fibonacci avrebbe uno spazio di discesa del 3,30%, oppure addirittura se dovesse andare al 38,2 che sarebbe curiosamente anche il pavimento del super trend potrebbe anche scendere di un altro 6%. Questi eventuali movimenti che non stiamo però segnalando come possibili, bisogna vedere appunto dei time frame inferiori per vedere appunto se la volatilità aumenta, magari possiamo arrivare a questi valori. Questi movimenti, ripeto, non inficerebbero il trend di fondo, quindi potrebbe essere un ritracciamento, il cosiddetto buy on the dip che voi stessi quando fate delle analisi nel vostro percorso formativo avete più volte accennato come una delle possibili tecniche che questi mercati ci stanno proponendo ormai da tanto tempo. Assolutamente. Qua Massimo ci faceva vedere anche una coppiata, perché questi sono due strumenti diversi alla fine per quanto riguarda tutto, anche se, scusami, dovrebbero essere, eccoli qua, questi due. Per quanto riguarda ancora una volta il DAX, così chiudiamo questa parentesi e torniamo anche su quelle che sono alcune domande, perché una in particolare è Extra, Gold, Silver e VTI che fa Andrea in primo luogo. Prima Massimo però questi ultimi due appunti. Prego. Parlando di grafico settimanale di DAX, appunto sto facendo l'esempio di qualcuno che avesse delle posizioni magari in un ETF. Parentesi, ETF, non succede in giro che qualcuno come Giuseppe, sempre nel vostro percorso formativo, mette dentro vari ETF in un portafoglio e li segue. Non è che diventa per forza un grandissimo investitore se gli va bene sei mesi, però è una cosa di trasparenza, seguire con calma, con pazienza quelle che sono le vostre scelte, quindi non si trova in giro un altro esempio del genere. Quindi complimentiamo per quello che state condividendo gratuitamente e non. Facciamo l'ipotesi appunto che uno avesse la voglia di impostare un'operatività tranquilla con un ETF. In questo caso io ho proposto due ETF short, perché qualcuno che si vuole fare male per forza ha anticipato, questo è un ETF short su SP500 leva 1 e quest'altro sul DAX senza fare pubblicità al singolo emittente. Possiamo mettere un super trend tranquillo, il DAX sembrerebbe con quattro ore avere messo la testa fuori, quindi a rialzo avrebbe dato un segnale di rialzo, l'SP500 invece ancora no, questo è un grafico più tranquillo, più sul daily. Ognuno a suo rischio eventualmente può provare, può provare vari casi, ci vogliono almeno una cinquantina di casi statistici per battezzare una statistica come solida affidabile ed eventualmente diventasse verde può eventualmente comprare, può fare eventualmente una copertura in opzioni, ma quello è un discorso successivo. Io provo a fare squadra con tutti gli amici migliori in Italia, sto cercando di imparare anche le opzioni da chi ne sa più di me. Grazie Massimo. Come dicevo prima, torno qua in piattaforma e vado chiaramente sulle materie prime. Andrea in chat dice, dopo il cacao attendiamo il wheat e corn visto l'embargo russo. Illuminaci Giancarlo, hai alcuni ulteriori aggiornamenti? Io faccio vedere qua, tanto che in piattaforma c'è tutto, su Easy Markets prendo il grano, grafico giornaliero almeno. Giancarlo, un punto su questo commento fatto da Andrea in chat. Ma come si vede non c'è nessuna reazione del mercato a queste notizie. Il mercato nel 2022 era andato molto su, ma era l'inizio del conflitto. Quindi considerando che è il un ucraino che preoccupava più che altro perché era presente il 19% dell'export, allora chiaramente l'emotività, eccola lì, aveva colpito. Come sempre avviene in questi casi su movimenti di carattere geopolitico, di questioni esogene, il mercato esagera sempre, cioè dà un premio a rischio superiore a quella che è la reale necessità. E infatti normalmente poi la cosa migliore è prendere il successivo ribasso o rientro alla normalità. Adesso siamo in una condizione di normalità. Direi che il mercato più che altro invece in questi giorni sta scontando il report che è uscito giovedì scorso da parte dell'USDA, del Dipartimento per l'Agricoltura americano, ed è uno dei più importanti dell'anno perché c'era il report trimestrale domande offerta, in cui praticamente il corn è stato dichiarato con un raccolto con scorte finali inferiori alle aspettative precedenti, ma soprattutto ancora più importanti le intenzioni di semina per il nuovo raccolto 2024-2025. E allora mais nella parte bassissima della forchetta di aspettative, poco più di 90 milioni di acri da seminare e la soia invece in linea con le attese. Infatti la soia praticamente non si sta muovendo, o comunque sta facendo un laterale tra circa 1170 e 1200 senza direzionalità. Il mais ha sparato a rialzo nella giornata del report, non so se puoi farlo vedere ZC. Aspetta, scusami, Z, vediamo se lo troviamo dal volo, se no lo prendo. Vediamo proprio il movimento emotivo del mercato. Dicevo, ha sparato a rialzo nella giornata di giovedì guadagnando circa 15 centesimi, però contemporaneamente che cosa è stato detto? Sì, è vero che diminuiranno gli acri seminati, ma molto probabilmente aumenterà la resa per acro. E quindi questo che cosa porta? Porta alla definizione di una stima di raccolto 2024-2025 che potrebbe essere inferiore a quella dei due anni precedenti. E infatti poi il mercato è tornato esattamente sui propri passi. Quindi direi in questo momento per rispondere alla domanda dello spettatore. Ma preso al volo, intanto Giancarlo, così faccio vedere. Ok, perfetto. Vedi, quella verde, esatto, quella rialzista, è giovedì dopo il report e poi venerdì festa e lunedì e martedì due giornate di ribasso che hanno portato praticamente i prezzi sul punto iniziale come spesso succede in questi casi. Nulla di fatto quindi. E direi per le granaglie in questo momento neutralità. Che cosa si guarderà in questo momento a meno che non dovessero succedere fatti eclatanti di carattere geopolitico? Si guarderà all'andamento iniziale delle semine. C'è un report che ogni settimana ci dice come stanno progredendo le semine stesse e naturalmente il mercato, come spesso accade, come quasi sempre accade, darà un premio a rischio meteo perché magari ci potrebbero essere rallentamenti o situazioni strane. Un unico dato, un ultimo dato volevo citare ed è un dato, a mio avviso, da non sottovalutare. Nel 2024-2025 si stima che si semineranno 6,3 milioni di acri in meno e quindi significa che rimarranno a cosiddetto maggese, senza seminare, vaste aree. È un dato inquietante, a mio avviso, perché stiamo andando verso una riduzione netta dei territori da coltivare in favore di cosa? Delle eolite, del solare e di tutta la narrazione sulla cosiddetta transizione green. Però attenzione perché se diminuisce il cibo comincia a diventare un problema. Eh sì, eh sì. Soprattutto perché ha famiglia. Mettiamola così. Buongiorno, innanzitutto, ben ritrovato anche a Cristian delle Fratte. Buongiorno, buongiorno Francesco, Giancarlo e Massimo. Sono arrivato sui campi incolti. Eh sì. Ho sentito, ho sentito l'ultimo minuto e mi sono già spaventato. Ho sentito dei termini che ricordavo da mio nonno che quando facevano, diciamo, su un terzo coltivato, un terzo fermo e un terzo che poi giravano le coltivazioni. Quindi siamo nella giusta trasmissione però perché ho visto quel grafico. Non è linea verde però. Diciamo che questo sorriso poi magari so che magari piazza Massimo perché magari ci fa uno screen e lo ricondivide sul suo gruppo di tutti e quattro sorridenti. Quindi comunque sia un modo anche come sempre per stemperare questo clima che abbiamo sempre di tensione un po' sui mercati. Non dovrebbe esserci questo perché siamo sempre lì con l'apprensione. Vado da Cristian perché poi apriremo insieme a tutti voi tre una parentesi sul gold perché ho visto che chiaramente Giancarlo fa subito un recap in testa e quindi gli vengono fuori tutte quelle che possono essere le sue memorie su tutte le sue conoscenze. Ma sia tu Cristian che Massimo avete posto una, almeno qualche slide. Però Cristian volevo fare il punto, visto che abbiamo parlato prima di Oil insieme a Giancarlo, invece volevo tornare da te con questa slide che mi hai mandato e che ti faccio fare subito il punto della situazione. Abbiamo già speso alcune parole ma è giusto fare anche quest'ultimo raccordo. Prego. Sì, le quotazioni del petrolio sono risalite dai massimi di ottobre 2023 e al di là delle tensioni geopolitiche quello che ci interessa di capire è quello che potrebbe essere la conseguenza di questo ulteriore rialzo ed è abbastanza prevedibile, cioè un possibile rafforzamento dell'inflazione perché sappiamo che è direttamente collegata al petrolio. quindi più che altro era capire che secondo me la Federal Reserve è l'unica banca che potrebbe ritardare ulteriormente il rialzo dei tassi e proprio per queste dinamiche qui che da loro che stanno crescendo molto impattano in maniera importante. Assolutamente. E allora iniziamo con una sfilza, visto che parlo tutto per ultimo. Gold, c'è questa slide. Torno da Massimo e poi l'ultima parola la lasciamo a Giancarlo. Allora partiamo qua su quella che è una correlazione, un confronto tra una scala inversa del rendimento del decennale statunitense e appunto l'oro giallo. Cristian. Sì, si nota dal grafico che negli ultimi mesi c'è una correlazione tra questi due strumenti che è andata persa. Infatti l'indice di correlazione è praticamente ai minimi rispetto a una correlazione che invece sarà sempre positiva. Questo perché? Perché si preferisce negli ultimi mesi, forse nell'ultimo anno completamente, comprare oro anziché comprare il bond americano. Ecco perché vediamo una debolezza forte sui bond e un oro che invece rompe record ogni giorno. Io credo che il rally dell'oro sia assolutamente sostenibile. quindi leggo ovunque follia, no non è follia per nulla, l'oro è un materiale, domanda e offerta. Se tutti lo vogliono cresce di prezzo, non è ciclico secondo me, è una questione proprio di quello che è il futuro. Le banche centrali stanno acquisendo oro in maniera massiccia e quindi se andiamo a vedere anche dei grafici tecnici che sicuramente Massimo è molto più bravo di me, si vede anche in passato quando ci sono questi breakout sull'oro, poi va l'oro, non è che aspetta tutti. Quando il treno dell'oro parte, parte, è partito nel 2001, è partito anche negli anni 70, quindi bisogna comunque capire che se veramente è partito l'oro, come credo io, ogni ritraccio bisognerà entrare perché i valori che vedremo sull'oro nei prossimi anni saranno su me nettamente più alti di questi qua, proprio perché storicamente ha sempre fatto così. Quando parte non lascia poi possibilità di rientrare troppo alle persone perché va, parte e via. Massimo, visto che ti chiamava subito, vado da te per quanto riguarda anche, vediamo se la trovo, questa slide che mette tra l'altro a confronto anche il Silvio e quindi magari lì può spendere qualche parola ma in più anche Giancarlo. A te la parola intanto, Massimo, prego. Guarda Giancarlo, io stamattina ho scritto sul canale, oggi abbiamo la medaglia d'oro e d'argento sulle materie prime, poi chiediamo a lui sulle materie prime, no? Dice che abbiamo Giancarlo, però devo dire anche che siccome io potrei stare da solo, ma invece mi piace fare squadra con veramente le persone in gamba, devo sottolineare anche oggettivamente che il prof Angelo Ciavarella già da qualche giorno ha detto ragazzi, io ho messo il Silver in portafoglio a prezzi molto inferiori rispetto a queste. Ieri addirittura ha fatto molto meglio, più 4, più 1,7 è l'oro. Adesso mi fermo e adesso tocca a Giancarlo. Giancarlo, vengo subito da te e prendo subito anche i grafici così andiamo direttamente sui prezzi. Prima Gold, se vuoi fare una battuta perché vedevo Ken Weavey, proprio quando parlava Christian, poi eventualmente prendiamo direttamente il Silver così ci fai subito un recap, prego. Quando parla Christian c'ho l'annuitore automatico io perché, come sapete, ci troviamo sempre d'accordo. Perché effettivamente lo noto ormai da tanti mesi, quando parla l'uno l'altro effettivamente si compiace e quando parla l'altro quindi vi mettete allo specchio. Esattamente. Hai anche il vantaggio che lo specchio è più giovane di te Giancarlo, qua tocca a te, mi dispiace per Christian però... Sì, allora, no, sull'oro c'è un'altra correlazione, oltre a quella con l'obbligazionario, che negli ultimi giorni si sta perdendo, è quella con il dollaro americano, insomma, la classica correlazione, no? E quindi molti stanno domandando chi è che mente, probabilmente non mente nessuno dei due in questo momento. Semplicemente l'oro viene acquistato perché si preferisce e le banche centrali lo stanno acquistando da tanto tempo. L'altra volta, mi ricordo, nell'ultimo appuntamento Christian ha fatto vedere anche qualcosa a proposito di questi dati. Ma ancora più interessante l'argento, e quindi condivido la tesi di Angelo, che saluto, non è presente, ma saluto in remoto, sì, l'argento è ancora più interessante, l'argento è perennemente sottovalutato e in questo momento è molto sottovalutato rispetto al mercato. Allora, che cosa potrebbe succedere? Se corregge l'azionario, normalmente l'argento viene ridimensionato perché si considera il suo ruolo di metallo industriale. In questo caso stiamo vedendo anche, per esempio, nelle scorse giornate, quando c'è stata un po' di correzione degli indici, l'argento è andato in perterrito a rialzo. Quindi attenzione perché anche l'argento, quando parte, parte. E abbiamo avuto degli esempi interessanti, insomma, il 2011 su tutti, lì tutti si aspettavano che girasse, un sacco di gente si è fatta male, ma malissimo. Nel 1980 si fecero malissimo i fratelli Hunt che avevano lanciato il rialzo dell'argento e poi fallirono. Però, insomma, a parte il... Cos'era? 2021, quando c'erano i Wall Street Bets su Reddit, non so se ricorderete, avevano provato a far salire anche l'argento. Ovviamente l'argento è pesantissimo rispetto a una GameStop o rispetto, insomma, a un altro titolino e quindi avevano fallito clamorosamente. Però, insomma, è vero che ci sono le banche d'affari che... C'è la leggenda che buttano sempre giù il prezzo dell'argento, però attenzione perché è più sottovalutato rispetto a loro e quindi mi piace questo movimento che sta facendo il SIGO. Grazie. Grazie Giancarlo. Francesco, scusa che ti interrompo. Per quanto riguarda il discorso dei fratelli Hunt, hanno talmente avuto problemi che adesso uno di loro canta, Rocco Hunt. E quindi, dopo che hanno preso... Sì, io vado via, arrivederci. Io esco da... Questa... Perché stamattina siamo partiti col primo commento da parte di Guido che diceva ho visto Giancarlo in un video su TikTok da un sarto di Napoli, molto famoso, mentre si faceva fare un vestito. Quindi vedete che siamo sempre così, in divenire su battute e quant'altro. Ma torniamo... Permettevi di tornare serio, ricordando, come sempre, che in descrizione potete trovare il link che vi riporta al conto demo di ZMarkets, è la piattaforma che vi facciamo vedere tutti i mercoledì mattina. Abbiamo Christian qua, insomma, come sempre avete visto che non c'è praticamente fermezza, nel senso che qualsiasi asset si può tradare. Sì, parleremo tra pochissimo di Natural Gas anche, non possiamo esimerci, però volevo tornare da Christian per un ulteriore due slide. Allora, la prima... Questa qua l'avevo vista anch'io, Christian, perché più o meno su Twitter seguiamo gli stessi analisti. Una volta ti lascio fare qua il commento, perché ancora una volta è piuttosto interessante. Prego. Dovremmo essere in un periodo restrittivo della Federal Reserve, quindi periodo restrittivo vuol dire diminuire quello che è la base monetaria disponibile sul mercato. Questo è quello che dovrebbe essere teoricamente. Invece ci accorgiamo che c'è continuo flusso di denaro. Nel mese di febbraio... Sì, esatto. Questo ultimo mese 53 miliardi e nuovo aumento di massa monetaria presente. Questo non agevola l'inflazione, perché è chiaro che se arriva moneta, sempre più moneta, poi questa moneta circola e si spende. Quindi bisogna sempre poi... Anche le motivazioni per cui il mercato sale sempre in questo momento. sale perché continua ad essere stampata, comunque messa moneta all'interno dei mercati. Quindi c'è questa irrogazione continua che droga comunque i mercati finanziari. Quindi è interessante vedere questa differenza tra realtà, una politica restrittiva, con i tassi di interesse alle stelle, delle banche centrali e invece poi continuano ad esserci aumenti di base monetaria costante negli ultimi mesi. E c'è soprattutto, Chris, una fase di riscone. Qua, come sempre, il driver principale, visto che l'appetito a rischio ancora una volta è alto e giustamente, torno un attimo da te prima di andare da Massimo perché ci colleghiamo con questo aspetto, poi chiaramente anche lì Giancarlo può dire la sua, abbiamo abbandonato in queste ultime settimane le magnifiche 7, sono diventate, aspetta adesso non mi viene in mente, sono rimaste in quattro, ma ancora una volta il driver principale potrebbe essere NVIDIA. Qua, Christian, ci fai vedere che dal punto di vista del grafico giornaliero è nata sotto la media mobile a 20, giusto? Sì, esatto. È successo solo tre volte quest'anno e sarà sempre poi comprata in maniera massiccia, ogni qualvolta ha fatto questa rottura. Io credo che il mercato ieri ha fatto la prima giornata un po', diciamo, di storno completo, tutti i mercati, non solo l'America, non solo l'Europa, da inizio anno. Bisogna vedere se continuerà. Io credo che il Nasdaq potrebbe essere quello che nei prossimi mesi risenta un pochettino, laddove appunto la banca centrale magari ritardi ulteriormente o comunque diminuisca l'idea di ribasso dei tassi. NVIDIA lo aspettiamo tutti, una correzione, quindi potrebbe essere la volta buona. Va detto che nelle due volte passate in questi mesi, ogni qualvolta ha fatto questa capatina al di sotto della moving average e poi schizzata a rialzo. Questa volta potrebbe essere diverso. E qua, Christian, ci hai già dato un po' di spunti e giustamente dobbiamo fare una compensazione, un confronto tra Europa e Stati Uniti. Perché? Perché abbiamo visto una giornata di ieri comunque sia anche un mercato obbligazionario scendere. E Massimo giustamente ci fa notare attraverso alcune slide, anche per quanto riguarda il nostro reparto, quindi tutti quelli che sono i BTP. Qua vediamo la Francia. Innanzitutto dal punto di vista tecnico un piccolo confronto e poi volevo aprire proprio un tavolo, una piccola parentesi di discussione proprio su questo aspetto, su questo appetito a rischio. Quindi sì, richiamare ancora una volta l'attenzione degli operatori e spingere sul mercato azionario penalizzando l'obbligazionario. Però in Europa c'è da fare una distinzione perché giustamente, come ricordava Christian, adesso forse è la BCE che si deve muovere per prima. Ma arriviamoci con calma. Prima Massimo, arriviamo da te con questi grafici. A te la parola, prego. Sì, questo è un grafico di un titolo di Stato francese, Scadenza 72, scambiatissimo sull'Euromot, stiamo parlando di circa 60 milioni di euro al giorno. Ieri ha perso il 5%, quindi con una cedola 0,5, solo la perdita di ieri si recupera in 10 anni di cedola, quindi se avete lunga vita, come auguriamo naturalmente a tutti, li recuperiamo. Naturalmente ha avuto un bellissimo rally, diciamo, prima di Natale, nell'attesa di taglio dei tassi, però siccome nulla è scontato e nulla è regalato al mercato, per adesso l'idea è che eventualmente non cerchiamo di comprare un coltello mentre cade proprio il primo giorno di rimasso, andiamo a vedere se quell'area di 35-34 eventualmente dovesse tenere da un punto di vista settimanale potrebbe essere un ottimo segnale di acquisto. Per quanto riguarda, scusate, abbiamo parlato della famigliante, fatemi dire mezza parola allora che anch'io ho studiato. Giancarlo mi correggi se dico qualche eresia, io mi sono specializzato in leggere i disastri che hanno fatto i grandissimi, tre delle, oppure le grandissime famiglie industriali, per cercare di capire qual è la psicologia sottostante, perché io dico sempre, al ragazzo ventenne, venticinquenne che i nonni o i genitori prestano 10-20 mila euro e se li fa fuori con la leva finanziaria siamo, in qualche maniera abbiamo fatto il calo, dispiace sempre, cerchiamo di condividere un po' di disciplina. Ma come hanno fatto a distruggere i miliardi di dollari, i grandissimi? La famiglia Ant, Giancarlo, io ho letto che aveva avuto a un certo momento il 5% di tutto il mercato dell'argento mondiale, il papà aveva, diciamo, raccomandato i figli, tra l'altro avevano anche un fratello diversamente abile, che avrebbero potuto campare per diverse generazioni se fossero stati tranquilli con la leva finanziaria. Bene, come Giancarlo ci ha appena accenato, si sono rovinati anche loro per eccesso di leva, di concentrazione, quindi occhio che anche i grandi, se si concentrano troppo e se si incaponiscono su un mercato che scende eventualmente tutti ci possiamo fare male. Grazie Massimo per questo ulteriore sottolineatura. Non metto qua subito quelli che sono i grafici, ma magari parto da Giancarlo stavolta per sapere quella che è la sua opinione. Vorrei tornare appunto, dato che Massimo ci ha fatto vedere prima quel grafico, con una seduta in particolare quella di ieri, ma insomma si vive un po' in queste ultime giornate ancora una pressione ribastista sugli obbligazionari. Come diceva Christian, lato Stati Uniti, economia che tira, questa settimana vedremo un nuovo aggiornamento del mercato del lavoro, può far propendere come ribadito dal banchiere centrale per eccellenza J. Powell, non c'è fretta di riabbassare quelli che sono i tassi di interesse. In Europa però, anche oggi poi vedremo anche quello che sarà tra pochi minuti, dato sull'inflazione, un'economia che fa più fatica. Potrebbe esserci questa aspettativa di un anticipo da parte della BC e del taglio tassi? Quindi non so se ti poni anche tu questa domanda sul fatto che l'obbligazionario europeo non parta a rialzo dal punto di vista dei prezzi nominali e quindi non ci sia un effettivo ribasso dei rendimenti. Giancarlo? Questo è vero, però se guardiamo euro-dollaro invece sembrerebbe confermare la tesi a cui tutti stiamo pensando. Cioè, per una volta, non so se poi accadrà, perché normalmente la banca centrale europea storicamente è abituata a stare, come dicono gli americani, dietro la curva, no? E cioè praticamente a fare in ritardo le sue mosse rispetto alla Fed. Però è vero che siamo ancora in laterale, però negli ultimi giorni insomma siamo sotto 1.08 e quindi il mercato potrebbe cominciare a scontare in termini di carry trade un taglio da parte della BCE a giugno. Credo che Lagarde l'abbia anche anticipato, non dico ufficialmente, ma quasi. Invece le parole di Powell di venerdì sono state di tenore diverso e credo sia attribuibile a questo un po' di confusione in questo momento che regna sul mercato. Per quanto riguarda l'obbligazionario americano, credo che ci sia anche lo zampino della Cina che da diverso tempo sta scaricando piano piano quello che ha in pancia o una parte di quello che ha in pancia e ancora una volta queste mosse vanno inserite in un quadro geopolitico ben delineato, insomma, di alleanze strategiche. Grazie Giancarlo, perché soprattutto Cristian, adesso arrivo da te, non ci avevo mai pensato effettivamente a fare questo confronto per quanto riguarda l'obbligazionario europeo ed euro-dollaro, però la mia domanda era per tutti e tre la stessa, attiva pure il microfono perché vuoi sentire la tua. Sì, il problema di euro è che clamorosamente ha una zavorra sopra perché l'euro e il dollaro vengono comprati in base alla previsione di tasso di interesse e alla previsione di crescita economica e per entrambi sull'euro io nutro dei dubbi perché la crescita economica sicuramente privilegia gli Stati Uniti e io sono sicuro al mille per mille che la BCE riabbassa i tassi di interesse a giugno e non sono assolutamente sicuro che lo farà la Federa Reserva o quanto meno sono sicuro al mille per mille che non ci saranno tre ribassi dei tassi in America mentre credo che ne possano fare tre in Europa proprio perché la crescita deve essere in qualche modo sostenuta e specialmente perché l'inflazione comunque sta scendendo abbastanza. Poi secondo me non arriverà proprio dove vuole la BCE nei tempi rapidi proprio per il motivo anche letterario che dicevamo prima. eh però è è questa la situazione eh tecnicamente tutti vorremmo un euro eh che vada 1,12 1,15 lo vediamo nei grafici però poi questa zavorra fondamentale lo colpisce e non riesce a star sopra gli 1,09 per più di qualche giorno. Eh io credo che comunque l'obbligazionario eh questo ne risenta anche eh dal punto di vista dei rendimenti. Se noi pensiamo che una Germania AAA in questo momento eh rende 2 e un'America che è comunque vicina alla AAA sta al 5 l'annuale. Perché io dovrei investire in Europa se penso che il dollaro possa essere ancora più forte nei prossimi mesi o nei prossimi diciamo trimestri. Quindi secondo me c'è sempre una preferenza eh sul mercato americano rispetto eh rispetto al al nostro mercato europeo anche su sui fondi. Cioè io da investitore Francesco se penso che comunque eh l'euro dollaro rimarrà più vicino a 1,05 piuttosto che a 1,15 io vado a investire in dollari e prendo più rendimento perché vale di più in questo momento il tip bond americano ma anche un semplice conto deposito in dollari viene remunerato molto di più e poi magari a fine anno eh mi ritrovo l'euro a 1,05 e quindi guadagno anche sul tasso di cambio. Per spiegarla per spiegarla anche per chi magari non ha colto non c'è rischio cambio in quel caso eh quindi non c'è una svalutazione del dollaro con euro dollaro che sale e quindi perdo quello che è poi dato che io poi alla fine a meno che non mi trasferisca negli Stati Uniti perdo. Devo riportare i soldi in euro certamente. Esatto quando quindi avete quella appunto rischio cambio quando investite in valuta straniere quindi non c'è quel tipo di eh di perdita eventuale eh diciamo nell'outlook è quello che cercava di spiegare Christian. Velocissimo in ultima battuta Massimo dice ma visto il prezzo del gold che sale come bene il rifugio di questo periodo anche il bitcoin potrebbe esserlo Giancarlo so che è comunque sia super preparata. Christian cosa mi pensi? Tu al volo e vado a riprendermi anche il grafico così l'avevo detto all'inizio quello che stava accadendo alla bitcoin e lo faccio vedere immediatamente in piattaforma. Christian non ho una battuta su questa. Ma io per alcuni lo è per me non lo è non lo sarà mai eh perché non c'è nulla tu dietro io credo che il bitcoin sia più un nasdaq eh moltiplicato per tre piuttosto che un bene rifugio eh come potenzialità io se dovessi ragionare l'idea di bene rifugio comprerei comunque l'oro rispetto al bitcoin. Il bitcoin per me è un asset simile al nasdaq che ha una leva tre. Quindi se voglio rischiare anziché comprare il nasdaq compro il bitcoin tengo i soldi fuori dal sistema bancario e prendo tre volte il rischio che prendo per il nasdaq. Ma come bene rifugio io andrei sull'oro e sull'argento se proprio dovessi considerare un'attività di questo tipo. Giancarlo? Sì è condivisibile questa tesi. Anunisci ancora una volta. Sì sì è condivisibile anche se eh aggiungo che però sul bitcoin c'è il tema della scarsità no? Che man mano che si va avanti sopravviene questo può essere un elemento eh rialzista per 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 il bitcoin. Poi il bitcoin ha dimostrato appunto di avere una volatilità tripla o addirittura superiore al al numero tre rispetto al nasdaq. Questo è vero. Massimo ci dice e qua poi intervengo io dice però il debito americano è fuori controllo dovranno cambiare le politiche fiscali e io qua dico vero ma ragazzi ricordiamoci che siamo in anno elettorale e per rientrare in quello che è un debito fuori controllo beh o si alzano quelle che sono le liquide delle imposte o si taglia la spesa. Io dubito che questi due scenari possano essere presi in considerazione poi eh magari se volete davvero in ultima istanza sia eh Giancarlo che eh evito massimo perché magari giustamente se ne libera da questi da questi commenti va e va sul grafico però io la penso così non credo che possano essere alzate le imposte in maniera abbastanza repentina in un anno elettorale oppure che ci possa essere un taglio della spesa pubblica. Giancarlo volo da te che sei stato l'ultimo a parlare ma poi voglio sentire anche Christian non credo che si possano attuare. Ma no assolutamente non si attuerà proprio un bel nulla probabilmente non si attuerà nemmeno in seguito perché sappiamo che ogni volta che arrivano al al dunque danno un calcio al baratto non è assolutamente sostenibile ma rimandano sempre quindi ma questa è una cosa insomma eh che 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 riguarda un po' tutti e quindi probabilmente continueremo in questo scenario ma d'altra parte l'avevo accennato anche proprio all'inizio no quando abbiamo iniziato il petrolio quando abbiamo analizzato il petrolio attenzione perché un anno elettorale e condizioneranno i prezzi o addirittura le politiche la politica monetaria della FED. Christian? Sì eh io aggiungo che l'amministrazione americana è un po' arrabbiata con con Zelensky perché sta con i droni in bombarda eh giacimenti petrolifici russi e questo è uno dei motivi per cui il prezzo sale quindi nonostante chiaramente sappiamo i schieramenti eh lo stesso Biden è preoccupato di queste azioni perché portano all'attituzione di quello che è l'offerta di petrolio quindi come diceva Giancarlo eh il driver del petrolio è importantissimo dal punto di vista elettorale e non ci sarà niente eh da qui alle elezioni per quanto riguarda eh nuove politiche fiscali anzi se dovesse vincere Trump gli da sempre abbassato le tasse quindi comunque credo che questa situazione il debito sarà la prossima crisi finanziaria quando ci sarà non lo sappiamo ma come dice appunto il presidente JP Morgan è solo questione di tempo è la crisi più eh diciamo facile da eh da prevedere ma non sappiamo quando tra un anno tra dieci anni tra tre anni ma ci sarà basta guardare i Simpson ragazzi basta guardare i Simpson perché così almeno ve lo strappo io un ultimo sorriso perché ho visto anche degli shorts dei reel su anche quando è successo un incidente su la ormai con pianta regina Elisabetta e c'era la data poi della della morte lì c'è stato poi eh un Trump rieletto con una crisi del debito quindi bisogna fare attenzione alle puntate di Simpson che possono essere ecco loro dobbiamo fargli fare a Groening una puntata su un po' di trading così almeno ci fa vedere cosa potrebbe succedere sui mercati e allora ci potrebbe vedere qualcosa a parte le mie battutacce andiamo sul closing finale ricordando che in descrizione come ho ricordato anche all'inizio potete ritornare sul sito di Easy Markets ci sono tantissime offerte quest'oggi come al solito abbiamo usato quella che è la piattaforma Christian delle fratte qua con noi torneremo ve lo dico già perché prepareremo un video con Giancarlo e non solo eh proprio per quanto riguarda ulteriori approfondimenti e ringrazio Christian perché mi ha dato il bene Placet per per proseguire sotto questo punto di vista ma lo ringrazio io ancora una volta gli mando un super abbraccio Christian buon lavoro grazie mille a te e a tutto grazie grazie a te Francesco un caloroso abbraccio a Giancarlo e Massimo ci vediamo la settimana prossima è sempre il green light per quanto riguarda va bene va bene cercate buona giornata cercate anche lo dico l'ultima cercate cdf como domodossola Firenze che chiaramente sono le iniziali del nome di Christian community su telegram perché anche lui un canale gratuito qua invece il riferimento principale di Giancarlo Dallaio www.commodities trading.it fortunatamente noi ce l'abbiamo qua periodicamente con noi è come sempre un piacere Giancarlo buona giornata buon lavoro un saluto a tutti ciao Massimo ciao Francesco ciao a tutti coloro che ci hanno seguito e in ultimissima stanza perché sempre qua con noi ci sostiene sempre massimo.vita chiocciola fastwebnet.it è la mail di riferimento per avere informazioni ed entrare anche lì nel canale telegram gratuito di Massimo Vita gruppo delle tartarughe Massimo buona giornata e buon trading buongiorno a tutti voi a tutti quelli che ci ascoltano ricordo solo dovesse aumentare la volatilità importi minimi e cerchiamo di tenere aperte le posizioni guardate il BTP oggi da 118 a 117 e mezzo fa 20 tic come niente quindi con velocità rischiamo poco che magari riusciamo a essere amici per tantissimi anni ancora e soprattutto la domenica sera immancabile la programmazione vostra con il prof dove io prendo appunti per la mia intervista lunedì un abbraccio buon mercoledì a tutti grazie grazie mille Massimo grazie mille Giancarlo mi metto io fino in ultima istanza ricordando a tutte le persone che ci seguono che torneremo in diretta domani mattina ore 11 e 30 con trading outlook e poi questa settimana dato che ci saranno anche i non fan però seguiremo il dato a partire alle 14 e 20 di venerdì grazie di cuore a tutti buona giornata e a domani hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata